Ciao a tutti ragazzi, sono ritornato con cui presente Francesco e oggi voglio giocare a il gioco più difficile del mondo 3, perché dato che io sono pazzo il 3 ci sta Worldass Game, it's the end you ever played, grazie, grazie Sì, io mi innervosirò, cioè già dice l'icona che mi... Boh, porco No Cioè devo scegliere Devo scegliere play, play, continue, andiamo sul... no, new game, new game Cioè come si fa? Già è difficile Oh Almeno qua è più rapido Allora ragazzi Oh No Mi sono riuscito finalmente ragazzi Allora Tec, porca Ok Devo prendere anche la chiave? Grazie Vai 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 Ehm... è impossibile Ma ragazzi, allora sono arrivato fino alla chiave e non so... non so come ho fatto Ma è già il primo livello Ho fatto quando i morti non lo so, non dice? Aspetta No, un morto dice, vabbè Però non ho fatto di più di sicuro Allora Per arrivare a questa Dovrei fare Una specie di Culagine Tipo questa Ecco, tipo questa Sì, sì Sì, sì E' fermo Esagge... E' mamma mia E' quando vanno veloci sti Mi sei buggato Mi sei buggato Cioè dovrei fare Ui, 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 no 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 Mi sta facendo salire la Eeeh Zipo E vai Mi si è buggato Ci sono riuscito E allora Devo arrivare al checkpoint Eeeh Magari no E mi si è buggato Perché? Quando vado dritto Non mi fa niente Ok Eeeh Ma careno No, eh dai Mi si era buggato Mi si era buggato Forse ho capito Eeeh Ma D'altro Uno E' difficile Due Non capisco come fare Tre Mi già mi sto incazzando Dai Mi si era buggato Vai Ora Cacchio Oddio Ora Que subloce Oddio Oh Il campione del mondo Cos'è successo? Oddio Anche a caso No, 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 no Ok ragazzi Per ora il video è finito Vi dico che è impossibile Provateci anche voi Ditemi in che livello siete arrivato Qui sotto nei commenti Un bel pollice in su E arrivederci